Quanto tempo è che non si fa una vera donna, sergente? Quella era vera. Secondo me era vera. Mio fratello aveva una macchina, sapete? Una Chevrolet Belair del 57. Un suincanto. Aveva addosso dieci strati di vernice color rosso ciliegia candita. Un vero schianto. Con sotto un 2.500, cadono. La macchina più veloce che girasse è sull'esterno. Diaz era il cambio a mezzanotte, d'accordo? Probabilmente a te piace l'esercito, vero? Io l'esercito l'odio. Questo non è l'esercito. Questo non è l'esercito, sergente. Sì, anche se passerò attraverso la Valle del Male, non avrò timore della morte. Sono il peggior figlio di puttana della valle. Era il peggiorno. È il peggiorno. Il peggiorno. Grazie.